Marco io ti passo attraverso Zurlini ti passo attraverso come la merda? che cazzo vuol dire la merda? sei vestito una merda ah sei vestito si si sei vestito una merda Marco il tuo mino è andato avanti così Marco faccio un giro alle giostre vai tirami Marco tirata come vado veloce Marco vado sull'antalena non c'è la fisica però quel bel mio cucino tira dei pugni la bossa della conchiglia io sono Batman aia aia Marco ti sei fatta banale si mi hai visto cosa ho fatto? mi son buttato dal lampione Marco sei una scimmia marzo ci si è fatto malissimo ma dov'è che andiamo Marco? da spike da spike ma te ci sei andato già avanti? vedi Marco trova più bottino possibile porca troia iiii super bull Cazzo fai volendo? Cazzo fai volendo? Cazzo fai volendo? Marco aspetta che lo registro Vieni ci faccio volando Cazzo fai volendo? Cazzo fai volendo? Cazzo fai volendo? Oddio Oddio Ho visto il calcio volante Oh che sportellato Marco guardami Eh tu non riesci a farlo perchè non hai l'abilità Marco 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 ne arrivano altri Porca troia Eeeeeee 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 No Marco Si esiste Porca troia Hai visto? Oddio Marco Siamo ritornati a Borderland Nei livelli di Borderland Quanti ne abbiamo massacrati Marco guarda Saranno stati una trentina Apri mi che vedere Uuuuuh Ah ok 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 Ma allora E che è lì? Ho visto Marco porca troia marco karate kid è morto ti stai perdendo di dei soldi marco o marco domani non continuare senza di me finiamo insieme sto qua gioca fallout davvero ma non tutte le secondarie tutte le il sito ben manco ma c'è un mucchio di cose da fare ancora dove sei marco stai facendo stato d'oro una? stato d'oro stato d'oro? un cazzo prendi marco non hai preso? lo preso ah ok incollezionabile quello credo che sia ci sono un po' di amici amici della fattoria nasci i soldi bastardo ti è i soldi nasci i soldi nasci i soldi nasci i soldi no mica marco burris ahahah ahahah cazzo marco attento ta ta tana to ta tana Che cappellata Marco che gli ho dato dietro il coppino Perchè così ti sblocca la missione seconda Marco ma i rifugi c'è già sbloccati, c'è già in rosso sulla mappa, i rifugi C'è un po' di rifugi Ma rossi? Eh devi sti guardare perchè andiamo a fare un po' di rifugi andiamo a fare un po' di esperienza Se c'è gli aimetti di Marco che andiamo a farli Eh faccio vedere la mappa grande Eh touchpad L1 No mi fuggirò se non è Ah allora bisogna fare, bisogna continuare la storia Marco Dai andiamo va Marco Sì sì bisogna andare di là Marco Ehi Questo che cazzo Che cazzo era quel Marco? Ho visto che ho visto La tarantolata Marco Ma che schifo Marco Ma quelli sti qui che si sono buttati dal tetto Non c'è una sentia eh Madò 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 Cadono zombie Marco Oh corridore 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 questo Sì sì l'ho ucciso l'ho ucciso Pericoloso eh Donna Marco che cappellate che vi diamo dietro alla schiera Po Il cazzo vai Google Marco Aspetta che l'accendo Marco via che esplode Porca troia Ho visto Ehi E che cazzo Ma tu Marco Marco corridore No Ho sentito Marco che ha parlato lo zombie Ehi Marco andiamo via che sono quasi morto Stanno arrivando alti Io Marco non c'ho Cioè c'ho l'arma rotta E non posso aggiustarla Mi serve un attimo di pausa Se mi copri un attimo ci faccio subito Ok Ok Questa E' 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 Ma come cazzo sei c'è? Bullismo Ci sarà qualcosa? C'è la cassa C'è la cassa No, ah, sì, no, niente Sì, 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 non serve Cosa siamo qua? Non siamo entrato? Che paura, Marco, senti che rumore Anche io, aspetta Che cosa posso aumentarmi? Il lancio multiplo, oppure combattimento, provetto Migliorare l'artificio del combattimento, tieni più vigore Ah, questa qua è inutile, molto inutile sta roba Oh, la scivolata vai Grazie Grazie Grazie